come uscire dai momenti di difficoltà, dai momenti di crisi, quando i progetti non vanno come vorremmo, come davvero desideriamo questo è un tema ovviamente molto ampio, un tema che ha tantissime variabili perché ogni progetto ha le sue specifiche ogni persona ha il proprio percorso, ha il proprio storico, ha il proprio background quindi non esiste una soluzione a mio avviso uguale per tutti però credo che imparare dai fallimenti, imparare da ciò che non funziona è sempre una grande scuola e quindi nel mondo di oggi dove siamo abituati a vedere sempre tutto rose e fiori siamo abituati comunque volenti o non enti a confrontarci con tutte queste cose stupide legate a quanti soldi devi fare a quanto puoi ottenere tutto ciò che vuoi eccetera eccetera alla persona che ha ottenuto quel risultato e quindi sei perennemente buttato in una politica del confronto credo che parlare anche di cose che non funzionano sia molto meglio e si possa imparare di più da tutto ciò che invece funziona no? questo perché? perché il primo consiglio che voglio darvi oggi è indipendentemente dal vostro percorso qualsiasi dei vostri successi progettuali piccoli o grandi non ci interessa arrivano sempre da una sconfitta arrivano sempre da qualche fallimento ok? non esiste qualcosa di positivo ok? qualcosa che ha funzionato che non derivi da qualcosa che non ha funzionato no? quindi perché io parlo di qualcosa che non ha funzionato? perché oggi lo vediamo confrontandoci con tantissimi ok? con tante persone che chiedono ci chiedono un aiuto e che iniziano fortunatamente a capire che music business italia è una missione molto chiara cioè che è quella di rendere le persone e chi fa musica ok? libera dalle catene dei modelli di business ok? dell'industria attuale che sfruttano e vi spremono come veramente come delle olive senza che nessuno se ne pare senza che nessuno se ne accorga anche perché viene fatta una dialettica poi su quali che sono è come raggiungere un determinato posizionamento come fare marketing ok? come promuoversi tutti questi discorsi che sono discorsi corretti nel momento in cui ci sono dei modelli di business no? se no al contrario saremo sempre a pulire le scarpe di qualcun altro no? quindi perché io vi voglio parlare di fallimenti? perché ad esempio anche noi pensate anche a music business italia music business italia non potrebbe esistere senza un mucchio di fallimenti io personalmente non le conto le volte che ho fallito ok? veramente quindi la mia prima partita IVA è fallita ok? il progetto che portiamo avanti per anni ok? anche con Antonio e con tutto un team ok? che era all'epoca direi più che sovradimensionato anche con delle persone molto competenti ok? però non avevamo chiaro un modello di business e cosa facevamo investivamo in artisti mettevamo tutto ciò che potevamo per produrre la musica e i progetti artistici con l'idea di riuscire in qualche modo ok? io lo dico in qualche modo a guadagnare da che cosa? da un modello di business che non era il nostro quindi il modello musicale attuale il risultato ti schianti ti spacchi la testa butti ti fai il sangue marcio perché anche qua quando si parla di fallimenti sai non è dire ah vabbè ho fatto un progetto non ha funzionato no ci ho investito un sacco di soldi un sacco di tempo un sacco di energie nel mezzo di un sacco di persone però cosa succede? che impari tante cose no? quindi ad esempio MB senza tutta una trafila di fallimenti non sarebbe mai potuta succedere no? perché? perché a un certo punto una persona si deve chiedere ma se io sto facendo una cosa e non riesco ad ottenere i risultati che voglio ok? che ragazzi parliamoci chiaro avete la libertà di scegliere anche dei risultati economici dove anzi io direi avete il dovere di scegliere di perseguire risultati economici il dovere non c'è il dovere per quale ragione? perché banalmente se noi dobbiamo sostenerci se noi dobbiamo crescere all'interno di un settore se questo è un lavoro è beh qual è il metro? qual è la bilancia? ok? cioè uno che fa voglio dire nello sport c'è il cronometro o nel calcio ci sono i punti ok? quindi ve l'immaginate una partita? no i punti non li contiamo giochiamo così cioè quindi è sempre 0-0 non avrebbe senso questo nella musica poiché è un settore estremamente emotivo invece al contrario non succede le persone non si non si settano dei punti da raggiungere ok? dei punti da ottenere non sanno non sanno avere un rapporto costruire un rapporto chiaro con i numeri non sanno settarsi un obiettivo dire io questo mese devo guadagnare almeno x dalle mie progettualità non so come fare vabbè intanto mi pongo questa domanda e capirò che cosa devo andare a fare per riuscire a costruire ok? un certo tipo di balance sull'economia non ne parliamo cioè poi in Italia figura ti parli di soldi ciao anche con tutta la dialettica scimmiesca che è stata fatta negli ultimi anni dove ormai praticamente sembra che ci siano ok? anche le persone che ti buttano addosso i soldi con la palla senza fare un cazzo con i mutande e col mojito in spiaggia ok? quindi è veramente terrificante questa situazione però dovete avere a che fare con il numero con obiettivi con il costruire dei modelli che siano vostri e che vi richiederanno impegno, costanza, fatica ok? vi richiederanno investimenti vi richiederanno di dover di dovervi mettere a studiare ok? tutta una serie di aspetti che di cui non siete abituati al netto delle vostre competenze verticali quindi vi ricordate il binario strategico e il binario artistico ok? io lo chiamo il binario artistico che può essere il binario delle competenze bene quello, le vostre competenze devono sempre essere costruite, implementate, migliorate ok? analizzate, reimplementate ma questo vale anche per la parte strategica cioè noi io ve lo giuro e ve lo dico anche con la stanchezza del mese di agosto alle 8.07 del mattino ok? cioè troviamo allucinante che non ci sia ma non dico una consapevolezza cioè non c'è proprio la minima cultura ok? di saper guardare i numeri di dare retta ai numeri perché i numeri come come vi dice ogni tanto il mio collega Antonio sono freddi e il business deve essere anche freddo da un certo punto di vista se parliamo di strategia poi se parliamo della parte artistica se parliamo della parte creativa lì allora ci sbizzarriamo in motività mille e deve essere così deve esserci una forte identità ma quando siamo invece sul binario ok? strategico delle nostre attività cazzo dobbiamo svegliarci dovete svegliarvi ok? non so come dire dovete avere anche un certo tipo di mentalità rispetto proprio alle vostre progettualità e a tutto quello che riguarda quell'aspetto che vi può davvero portare a cambiare la situazione perché ricordatevelo oggi siete in un modello di business di servizio chi non capisce profondamente questa affermazione profondamente che ripeto non lo dice Music Business Italia ce lo dice il mercato quindi voi potete essere d'accordo o non d'accordo potete dire ma cosa stai dicendo eccetera eccetera tanto il mercato se vai in una direzione vai in una direzione e noi dobbiamo quantomeno comprenderla per decidere se poi vogliamo virare a destra o a sinistra ok? però almeno dobbiamo capire qual è la direzione se no rischiamo veramente di fare la gara di formula 1 bendati cioè prima curva ti schianti che è quello che succede oggi quindi come già vi dicevo la volta scorsa dovete valutare che ciò che fino ad oggi è stato un fallimento in realtà si nasconde dietro a quel fallimento una grande opportunità se non avete ancora fallito ad oggi significa che non avete non ci avete neanche provato quindi in quel caso di non è Music Business Italia che vi può aiutare vi può aiutare a strutturare la prova a strutturare il test noi lo chiamiamo anche test pilota però è logico che ognuno di voi ha vissuto in maniera più o meno grande il successo e il fallimento ok? perché anche questo è tutto molto relativo e il mese di agosto proprio per cercare di veramente di dare un'ultima chance un'ultima possibilità prima di un cambio radicale ok? delle nostre politiche che ci sarà da settembre e vi ripeto sapete che questo lo diciamo quando diciamo una cosa è perché avverrà un cambio drastico e netto a settembre vedrete proprio ci saranno ci sarà meno possibilità di interazione sarà più difficile ok? riuscire a parlare con noi vogliamo arrivare e lavorare con ancora meno persone cioè noi più aumentano ok? le nostre richieste meno vogliamo più cioè più vogliamo fare selezione perché parliamoci chiaro anche noi dopo ormai tre anni iniziamo tra virgolette a pretendere ok? che ci sia un livello di partenza tale da permettere a tutti di avere e di lavorare con noi partendo da uno stesso vocabolario e io proprio da questa da questo vocabolario che vorrei partire cioè questo vocabolario che cos'è? sono tutti i nostri materiali che abbiamo fatto sino ad oggi quindi che cosa vuol dire questo? che sono qui a farvi il paraculo no io vi sto dicendo che voi avete una grande opportunità davanti al naso se la volete sfruttare perché perché la finalità di questi dizionari dei nostri volumi dei nostri eventi delle registrazioni degli eventi tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi ragazzi che non è proprio pochino se considerate che tutto questo è avvenuto in ok? in quanto? un anno e qualcosa? ok? sono tutte informazioni che noi abbiamo costruito sulla base di problematiche emerse e ricorrenti su tantissimi progetti ok? con cui abbiamo lavorato sono più di 170 i progetti con cui abbiamo lavorato perché per poter dare quelle informazioni che a nostro parere e sulla base di dati oggettivi erano quelle che proprio mancavano cioè noi quando facevamo le nostre consulenze poi saltava fuori ah cazzo però vedo che tutte le persone chiedono a e nessuno ha capito a allora mettiamolo giù tutte le persone chiedono b allora mettiamolo giù che così almeno sono delle informazioni che una persona ha e che poi può sfruttare nel tempo a disposizione one to one allora qua le persone non capiscono che cos'è il mercato allora bisogna fargli capire a b c bisogna fargli capire questo bisogna fargli capire questo cioè tutto questo lo abbiamo fatto per voi non per noi ok? quindi sappiate che per tutto il mese di agosto abbiamo pensato questa roba folle solo per sette persone quindi non è un numero casuale il numero sette è il numero massimo di persone a cui possiamo proporre questa fare questa proposta che è assurda perché è assurda che cosa comprende? dizionario dell'autopromozione il dizionario del lavoro il sistema esatto quindi tutti i nostri materiali che abbiamo fatto fino ad oggi compresi i dizionari e il cartaceo sono oltre 40 ore di audio ok? più il cartaceo poi abbiamo detto mettiamo dentro la registrazione dell'evento di Milano che sono altre tre ore di informazioni assolutamente impattanti e che è un condensato ok? di tutto quello che fondamentalmente abbiamo compreso e abbiamo applicato non solo su di noi ma sui progetti nel corso di questo tempo ok? ci sono nell'evento di Milano troverete anche delle persone che parleranno del loro caso studio ok? l'evento di Lugano ok? che abbiamo fatto presso Touch Time Records e Slash Iceberg Film che anche lì sono quattro ore ok? dove tra l'altro c'erano dei personaggi molto interessanti e delle persone anche presenti all'evento di una discreta caratura professionale ok? tre ore di consulenza insieme a noi ok? quindi inoltre insieme a tutto questo tre ore di consulenza più chi verrà a fare la consulenza direttamente qui questa è una cosa che ho pensato io prendo questo merito ok? vi regalerò anche un libro che a mio parere potrà cambiarvi ancora la prospettiva ok? quindi delle vostre progettualità quindi chi verrà poi qui da noi avrà oltre a tutto questo anche un bel libro in omaggio tutto questo ragazzi ha un prezzo folle ok? quindi è un'offerta che su cui veramente io spero che questo possa essere preso come un'opportunità una grandissima opportunità perché poi anche qua ormai nel mondo online si pensa che tutto viene fatto sempre con una finalità economica io nel tempo ho capito che il vero motore che spinge ok? MB non è il fatto che voi pagate più o meno i nostri percorsi più o meno tutto quello che noi costruiamo a livello di informazioni informazioni che ovviamente sono catalogate sono informazioni ordinate ok? che vi consentono di risparmiare un botto di tempo di risparmiare un botto di tentativi fallimentari e ve lo posso dire alzando la mano ok? in modo molto concreto ma è proprio l'idea di dire noi riusciremo a cambiare ok? il futuro di tante persone che non riescono a sostenersi concretamente in questo settore ad avere rendite continuative perché? perché non capiscono i modelli attuali e non riescono a capire come costruire il loro modello quindi avete di fronte un'opportunità ripeto limitata a sette persone non mi ricordo quando scade ok? ma trovate il link in descrizione pensateci ragazzi questa è la vostra ultima opportunità di accedere ok? ai nostri materiali prima di un cambio che avverrà drastico a settembre io vi ringrazio per qualsiasi informazione potete scriverci prime sette persone superata la settima ciao ok? e arrivederci quindi non è un discorso che facciamo per una questione di scarsità ok? di scarsità così almeno sapete il marketing le tecniche di marketing vaffanculo anche da quel punto di vista quindi un saluto a tutti buona giornata e buone cose arrivederci grazie grazie Grazie.